22 dicembre 2022 ci troviamo oggi in una nel palazzo bertucci tutto decorato per questo emiliente natale con noi una ragazza che ha creato la maggior parte delle cose che vedete se ci potete spiegare domani cosa ci sarà domani alle ore 18 ci sarà qui babbo natale che verrà a ricevere le letterine da tutti quanti i nostri bambini quindi tutti i bimbi sono invitati a venire qui nella casa di babbo natale potranno fare le foto insieme a lui che verranno stampate express potranno consegnare la letterina dire cos'è che desiderano per il natale passare un pomeriggio tra musica allegria sarà un piccolo rinfresco e concludiamo così la serata sentito una domanda velocissima come è fatto questo cammino bellissimo allora il cammino che sembra vero ci avviciniamo è stato fatto mediante uno schermo led che ha l'effetto fiamma e poi rivestito con dei giochi di legna un po di genere un po di carbone tutto il resto invece fatto in cartone in compensato e poi dipinto a mano e il portalettere il portalettere su base sempre di legno è ricoperto con del feltro della gomma eva e verrà appunto possiamo già far vedere come si apre verrà appunto inserita da qui la letterina e poi babbo natale oh ce n'è già una bellissima bellissima veramente poi ho visto che avete foto anche di babbo natale le foto di babbo natale con con mamma natale e con rudolf la sua renna bello davvero complimenti e poi un'ultima domanda e tutti questi regali e tutti questi regali chissà sono pieni forse per i bambini buoni ma anche per quelli meno buoni però è un piccolo pensiero per i nostri bambini sarà anche una sorpresa per loro poi domani ognuno potrà portarla a casa insomma bisogna esserci per per scoprire meglio va bene grazie ci troviamo guardate al palazzo bertucci via bertucci seraso vi aspettiamo domani mi raccomando venite numerosi perché qua babbo natale avrà tanto da regalarvi guardate ci troviamo ancora nella casa di babbo natale qui a palazzo bertucci hanno creato questo mercatino di natale che è bellissimo io adesso ho comprato già delle cose abbiamo i ricami sotto bottiglia le tazze di natale le palline decorate borse sacchetti regalo quindi vedete c'è l'alzatina in vetro ci sono tantissime cose carinissime quindi venite qui domani vedete babbo natale magari fate anche un acquisto qualcosa di carino da regalare e chiudiamo questo video con un ringraziamento al gruppo teatrale di simbario tutto quello che vedete è stato realizzato da loro quindi quasi premia la creatività il gusto ma soprattutto la voglia di fare per il proprio paese meraviglioso vedere guardate la tenda dietro l'albero è stato tutto creato per questo imminente natale quindi vi aspettiamo domani a questa meravigliosa serata questo meraviglioso pomeriggio con il gruppo teatrale di simbario con babbo natale una festa dedicata non solo ai bambini ma anche ai grandi che si sentano ancora bambini è bellissimo è davvero bello sembra davvero di stare nella casa di babbo natale